Ciao, sono tornata con un altro video e questa volta è una collaborazione con la Japan Candy Box. Mi hanno inviato questa scatola che era dei dolcetti di febbraio è arrivata da voi in circa un mese un po' acciaccata e adesso la pranziamo a voi vediamo cosa c'è dentro e li assaggiamo. Ok qui c'è il biglietto di ringraziamento loro con tutta la lista dei snack che ci stanno. Poi c'è questa melina. Poi c'è un po' di questa roba. C'è un po' di questa roba. Che schifo. Ok, per cosa iniziamo? Iniziamo con queste. No, questi sono i biscotti vegani. Dai 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 dai. Sono i biscotti di mai meno di... Spesso ho scritto da due. Oddio non so se invece è tutto giapponese. E voi vetti 5. Scatola. Io sono io il giapponese dai 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 tu. Non toccare niente. C'è mangio. C'è mangio. C'è mangio. Let it! Ledi scotto. Vai Ledi mangia! per la canzone sono questi fiochi io ce lo chiti sopra ma scusa sono te lo chiti guarda ahahah ahahah dai mamma mia sopra brava questo è un po' il voto io sono 7 5 e mezzo ma guarda non sanno cazzo non sanno e' segaturo ok adesso dobbiamo questa specie di mentos sono un po' ci accade e ci stanno tutti qui fate voi io passo vai dopo andiamo a mentosene vai 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 ma è droga ecco io caldo ma non sanno di me ma sono caramelle zuccheri zuccheri un po' dall'odore buone oh ci piacciono a te e a te ci piacciono a te ci piacciono a te e a te ci piacciono a te però gli do un 3 perchè a me non piacciono no sei sei ma sono puoi di brividi due e poi quattro le sceglie in gambe dell'occhiettino allora sono arrivati poi il mikado di pikachu eeeh non so che roba ci sia dentro perché l'altro lo so bevi eh mikado dai mikado lo so i cristini con cioccolato eeeh sono grigi che cazzo lo è prendi punto per cane che stai mangiando quel biscotto ahahahahah ahahah ma c'è la muffa eh ahahahahahahah ahahahahah 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 ma guarda che sono muffi veramente ahahahahah non so spessare ahahahahah oh puzzano ahahahahah ahahahahah oh puzzano con questi che prendi dentro il trame cioè mi guarda che ti puzzano ahahahah no no è cioccolato ma perché sono tutti attaccati ahahahahah ahahah 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 è vero è tipo stretto da vedendo che fa fa uno schifo ahahah io non lo mangio ahah ma che eh ahahah si sapisce ma che schifo ma che schifo ahahah ma che è stato fatto all'ospedale a tutti e quattro no 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 non fanno schifo sanno di tipo di cartone veramente il cioccolato c'è e si sente ma che schifo è leggermente ma che schifo vabbè va 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 schifo ma che schifo no 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 ma che è stato un sacco ma che è stato un sacco mamma mia, ma la fa tutta la bocca io tu non sei io tre ma uno e mezzo prego sia una fragola, sono rosa si, stanno alla foto dei fragoli ci vediamo al prossimo video ciao ma come li chiudono sti rossi che profumo di fragole questa è più buona il cioccolato lo piatta di bravo poi scospetale d'apriglia c'è quest'altro snack che è mezzo morbido sarai gommoso, mezzo morbido oggi abbiamo trovato del pane morbido non lo fa secondo me questo è buonissimo sai che sono tipo liquidoni ah sai qual'è questo qua ehm ma adesso te lo toccano all'ospedale vado 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 non so come sembra che non è una sigaretta le simpson dai guarda che non è male è dolce ma ci stesse mani a questa gente è maravaggio non sembra come quelle carabelle delle bollanine che stanno facendo le pistole è uguale 5 e mezzo io sei meglio di quella di prima 4 2 e 5 dai mangelà adesso quest'altro snack fa la banana ah guarda praticamente dobbiamo ah dobbiamo crearle noi devi mettere il cioccolato dentro una maschetta gli zuccherini in un'altra e ingiuffare lo snack oddio che carino tocca a scioglierlo con l'acqua ma che devi sciogli si si guarda mettiamo il cioccolato e poi che lascia versi con l'era? questi zuccherini questo qua fai così adesso devi girare girare così stacca la sola non è vero e dai sei stronzo però reggi che devo fare la foto metterlo così ti lascialo qua così ormai vedo che non avendo la faccia ma a me è giudicissimo a me questo è Gagliardo eh questo se lo fa la presentazione io gli do 10 siamo pronti? e noi loro già non mangiamo io te Angela vai è buono è buono è sezioso è buono 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 sono rimasti due allora questa qui di rilakkuma rosa questo ha detto dovrebbero essere dei dolcetti appunto rosa con dentro qualcosa di giallo invece questi altri sono dei guana a cioccolato un po' di pieno ma credo che vanno dentro si vabbè saranno tipo come un flex tipo i cosi usiamo quelli gialli noi c'è un crepe e poi c'è un crepe come un'altra mi ha perfumato tantissimo che sta ancora bianca comunque a me ci ha messo un mese di rame è un po' tantino perchè c'è dovrei comprare la box d'aprile adesso allora questo questo è il quale la domanda cosa 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 non so male solo questo sono un po' troppo vuoti ah no so poi c'è un po' troppo vuoti cioccolato bianco un po' buonio 10 nel latte questi 10 mamma mia sono buonissimi senti dopo il cioccolato bianco con la bocca buon po' tu ho detto adesso un po' più di pieno ma questo non è l'altro io ho 10 io ho 8 io pure 8 secondo me questi sono il top ecco qua gli ultimi gorillacomani astronauta questo qua cerco di utilizzarlo in qualche maniera questo parattolino che è carino allora c'è l'uovo l2p che cosa c'è? un adesivo un adesivo sono praline praline bravola 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 e panna bravola e panna anche queste sono buone e prove ma che parlo schifo a te le più schifezze ti piacciono? soffiato si tipo quel buffer non nessun buffer cosa si va a dire? c'è pop gun no c'è pop gun c'è pop gun ricoperte di cosa fare? buffa con crema latte frago buonissime 11 11 a queste grazie grazie vai lady è una meglia è una meglia da una muffa però buonissima l'ultimo oggetto rimasto è questa caramella che non assaggiamo perché siamo in quattro questa è una cosa proprio igienica è la mia e quindi aspettate la faccio vedere così è sempre questo viola viola ma assaggia la volevo in come le stesse mani? un autore non è così ah beh adesso assaggia Simone ci dice ah il bastoncino si mangia eh? è di gomma no c'è dentro qualcosa si la milagatta è stata di coca cola mmm perché c'è il bicchiere della coca cola fa assaggia invece il pezzo sopra è lampone e mela no uva o lampone e mela no questa è uva e mela ma proprio che padre lo volevo pure io quest'altra non lo so troppo ma potete tagliare però eh? no anche se è un gordo maledetto ci vediamo al prossimo video ah il centro la faccia e il limone questo è tutto per la box per la java candy box di febbraio se volete vincerla anche voi perché loro mettono in pari un giveaway sul loro sito potete andare sul loro sito che appunto vi lascio il sito qui giù nell'info box e lì sono tutte le informazioni per poter partecipare secondo me è carino se lo fate perché sono snack divertenti e diversi dal solito che non troviamo qui in Italia questo è buono proprio voi la consigliate? io si dai si è divertente ahhh potete vedere anche il costo appunto sul loro sito c'è tutto scritto là quindi questo è tutto ci vediamo al prossimo video al prossimo video ciao 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 ciao